Non tagli di fiori, non patti di unioni, non sogni di amanti, alle donne regalate orgasmi, incontrando i loro sguardi, svelando fole, scoprendo strofe, carezzando anche se tardi, dalla distanza di un sorriso, dalla distanza di un ricordo, penetrate aspirazioni, attendete e respirate allusioni sospirate, illusioni espiate, nudi o vestiti, alle donne regalate orgasmi. Grazie a tutti Grazie a tutti